34 anni fa, era il 26 aprile 1986, il disastro di Chernobyl. Oggi, 2020, l'emergenza dell'epidemia, della pandemia del Covid-19, del coronavirus. Ci sono tanti elementi in comune, se ci pensate, e questo è il motivo per cui Chernobyl e quanto accadde a confine tra l'Ucraina e Bielorussia è ancora terribilmente attuale, è anche il motivo per cui la 7 ha trasmesso la serie tv della HBO sia nel mese di luglio e sia anche nel mese di settembre. Dicevamo, pensateci, i tentativi di nascondere ciò che è accaduto, di minimizzare la gravità del pericolo inizialmente, la presenza di un nemico che non puoi vedere, le difficoltà nell'identificare i colpevoli, forse perché occupano posizioni di enorme potere e si sa quando è così, a volte ottenere giustizia può diventare complicato. Le maschere antigas e le tute di protezione allora, le mascherine, i guanti e il gel disinfettante adesso, l'evacuazione della zona rossa in Ucraina ieri, la militarizzazione, la quarantena, quello che è accaduto in Italia e poi in tutto il mondo oggi. E poi le vittime, troppe, da una parte dall'altra in ogni parte del globo. Infine gli incendi, forse a causa del surriscaldamento globale, che nel mese di aprile hanno riportato l'attenzione proprio su Chernobyl e le sue zone, dove le radiazioni sotto controllo, ma ancora vive, pulsanti, si sono riportate appena sotto il livello di allarme, aumentando di 16 volte la loro intensità rispetto alla norma. Noi in questo speciale vi raccontiamo sette storie che la serie tv HBO, riconosciuta più o meno da tutti quanti come una delle possibili migliori serie tv di tutti i tempi, insomma non racconta. Quindi sette storie in qualche modo inedite o anche sette curiosità, come le vogliamo leggere. E cominciamo dall'etimologia della città di Chernobyl. Che cosa significa letteralmente in ucraino? Beh, letteralmente significa steli d'erba neri, quindi con un po' più di immaginazione potremmo dire che Chernobyl significa erba nera e questo è dovuto probabilmente al fatto che erano presenti diverse piante arbustive chiamate Artemisia vulgaris e quindi la parola che lingua ucraina la indica. L'altro aspetto che non tutti sanno è che l'impianto non si trova realmente a Chernobyl, si trova a 15 chilometri in realtà dalla città. L'impianto si trova a Pripyat che invece era conosciuta come la città dei fiori. La città dei fiori perché ai tempi era ricca di aiuole anche piuttosto colorate. Per certi versi le cose sono tornate come un tempo, con la differenza che adesso queste aiuole sono completamente selvagge. Pripyat è una città fantasma. E poi ci torniamo a Pripyat. Peraltro Chernobyl non fu evacuata del tutto. Pripyat sì, ma Chernobyl non del tutto, almeno all'inizio perché le radiazioni si diffusero velocemente verso nord, verso la Bielorussia, mentre a sud dove appunto si trovava Chernobyl gli effetti furono relativamente marginali, sebbene la radioattività fosse comunque davvero altissima e per certi versi lo è ancora. Partiamo adesso, vi mostriamo da questa prima immagine, perché non fu questa cosa, la serie tv lo dice, ma non in maniera forse piuttosto chiara. A dare l'allarme dell'incidente di Chernobyl non fu l'Unione Sovietica, fu la Svezia, furono i tecnici della centrale nucleare di Forsmark, che come vedete è lì in alto nella nostra cartina, insomma nella Svezia più o meno del sud, a quasi 2000 chilometri di distanza da Chernobyl. Per i tecnici questo paese che aveva 56 anime, un laghetto, uno dei pochi impianti nucleari ancora operativi in Europa, c'era qualcosa che non andava, perché stavano rilevando delle radiazioni vicino al loro impianto, alla loro centrale, che non erano anomale, erano veramente fantascienza. La cosa più strana è che la loro centrale non dava alcun tipo di segnale di malfunzionamento, tutto era regolare, l'impianto stava producendo energia elettrica senza problemi, in sicurezza. Eppure quella radioattività era fortissima secondo i loro rilevatori. La risposta, come detto, era a 1560 chilometri di distanza. Il governo sovietico tentò di tenere nascosta la notizia e quando la Svezia chiese spiegazioni, insomma Mosca minimizzò l'accaduto. Come sapete la notizia apparve per la prima volta sui nostri quotidiani, il 29 aprile, tre giorni dopo l'incidente, complice anche le fotografie degli Stati Uniti con il satellite che aiutarono in qualche modo la diffusione di quanto era accaduto un po' in tutto il mondo. Un'altra storia che non tutti sanno è che a capo della prima squadra di soccorsi dei Vigili del Fuoco c'era il tenente Vladimir Pravik, che vedete qui raffigurato in questo busto dedicato a lui. Aveva 24 anni, pensate, era un ragazzino o poco più. Lui e i suoi compagni, che erano coetanei, componevano la prima squadra che fu mandata a combattere contro il fuoco non appena ci fu la famosa esplosione. Il problema è che non furono avvertiti della reale situazione. A loro fu detto c'è un incendio, andate a spegnerlo, si trova a ridosso della centrale. Per cui loro andarono a spegnere questo incendio senza alcun tipo di protezione, senza alcun tipo di abbigliamento o strumenti specifici. Loro lottarono per primi contro il fuoco sul tetto della centrale di Chernobyl per tre ore. Intorno alle 5 l'esplosione avvenne all'1.26. Lo ricordiamo, furono raggiunti e sostituiti dai colleghi, ma avevano nausea, avevano vomito. Non lo sapevano, non potevano sapere che stavano lavorando dentro una vera e propria nube radioattiva, dove si stava andando a creare la nube radioattiva. Vladimir fu trasportato in ospedale in preda convulsioni a causa della grafite radioattiva che aveva annerito la sua pelle, che stava annerendo la sua pelle. Morì dopo 15 giorni. Per i pochi documenti esistenti sembra che fu una sorta di liberazione, nel senso che sui ultimi giorni di esistenza furono davvero tormentati, insomma, per usare un eufemismo. Tutta la sua squadra perse la vita e tutti all'interno dello stesso ospedale. I loro corpi, pensate, furono seppelliti a mosca in una bara circondata di plastica e metallo all'interno di un cavo. Al momento del decesso la loro radioattività, la radioattività dei loro corpi era paragonabile proprio a quella dei prodotti radioattivi che li aveva sostanzialmente avvelenato in maniera letale. Torniamo adesso a parlare di Pripyat, perché questa fotografia credo oramai la conoscano più o meno tutti, nel senso che è diventata l'icona della città di Pripyat, una ruota panoramica. Basta andare a cercare su Instagram o anche su YouTube, insomma, adesso ci sono tanti turisti che cercano in qualche modo di documentare, insomma, i loro tour non propriamente regolari, ma comunque, come detto, insomma, si è scatenato nel corso poi degli ultimi anni un turismo abbastanza forte, insomma, per quanto, diciamo, illegittimo. E questa fotografia della ruota panoramica rappresenta un po' il decadimento della città fantasma di Pripyat. Ma in pochi sanno che questa ruota panoramica non fu mai inaugurata. Doveva essere inaugurata il primo maggio di quell'anno, proprio come regalo, come ulteriore passo per quanto riguarda Chernobyl e Pripyat, di una città viva, insomma, dove c'era una centrale nucleare, ma c'era anche una comunità florida, con questo parco giochi che, come detto, non fu mai inaugurato, perché il primo maggio ovviamente fu qualche giorno dopo rispetto all'esplosione di Chernobyl avvenuto il 26 aprile. Per cui non fu mai inaugurato, anche se c'è da dire che ci sono dei filmati su YouTube in cui si mostrano che, in cui viene mostrato che la ruota panoramica a un certo punto viene messa in funzione. Secondo qualcuno questa cosa avvenne per cercare di calmare gli animi degli abitanti di Pripyat dopo che ci fu l'incidente, dopo l'esplosione. Allora, per cercare di calmarli e di metterli un po' più a loro agio fu inaugurato qualche giorno prima senza una vera celebrazione, ma la verità dovrebbe essere, è un'altra, anzi perché, come sapete, i primi giorni, insomma, l'Unione Sovietica ha atteso a minimizzare quanto accaduto. Non c'era bisogno, insomma, di tranquillizzare gli abitanti perché gli abitanti non avevano la minima idea di cosa stesse succedendo. E quindi questo ha conferma, insomma, di un parco che non fu mai realmente inaugurato. Ed è questa la ruota di Pripyat, la ruota panoramica di Pripyat, diventata, come detto, l'icona di quanto accaduto e della città fantasma, appunto, che rappresenta Pripyat. Andando avanti, vi mostriamo adesso un'altra fotografia, in qualche modo diventata icona di quello che è rimasto dentro la centrale nucleare e di quello che è rimasto della incredibile e violentissima esplosione che, ricordiamo, fece esplodere, scoperchiare il coperchio, appunto, del reattore che pesava mille tonnellate. La foto di cui vi sto parlando è questa qui, è quella che forse vi sembrerà vagamente avere la forma di un piede di elefante, si chiama proprio così, è il piede di elefante di Chernobyl. Di che cosa si tratta? Beh, dopo l'esplosione il reattore andò a fondersi assieme al nocciolo, diventando una sorta di lava radioattiva, assieme composta da una miscela formata da uranio, plutonio, grafite, altro materiale. Si solidificò nel corso dei mesi, perché fu scoperta solo otto mesi dopo, prendendo la forma di quello che appunto tutti oggi chiamano piede di elefante. Qualcuno lo ha definito l'oggetto più pericoloso al mondo, che è un'espressione usata quasi per un film di fantascienza o argomenti di fantascienza, ma come sapete Chernobyl e la fantascienza, la realtà e la fantascienza con il disastro di Chernobyl sono diventati una cosa sola. Pare sia pesante all'incirca 800 tonnellate ed è ancora lì, all'interno delle mura cadenti di calcestruzzo, poi insomma ricoperte dal sarcofago finale di acciaio e cemento di cui parliamo tra poco. Questo piede d'elefante all'inizio emanava così tante radiazioni in grado di poter uccidere una persona nel giro di cinque minuti. Ovviamente adesso la pericolosità si è in qualche modo dispersa, è ancora radioattiva ma non come agli inizi e infatti ci sono appunto alcune testimonianze sul web, in particolare questa. Se ci fate caso, ma anche questa è una fotografia che trovate agilmente su Google, si intravede anche un tecnico che sta effettuando delle fotografie. All'inizio per qualcuno sembrava più un fotomontaggio, per altri diciamo che si era anche diffusa la notizia che quel tecnico fosse lui la vittima morta nel giro di due, tre, cinque minuti. In realtà fu semplicemente una stima per far capire la quantità di radiazione che questo piede d'elefante emetteva ai tempi, ma in realtà si tratta del capo, del direttore insomma del progetto della messa in sicurezza di Chernobyl che diversi anni dopo, una decina di anni dopo, andò a fare delle fotografie a distanza illuminandolo insomma anche attraverso una telecamera speciale, una telecamera particolare che metteva un po' di luce sul piede d'elefante perché ha un colore molto nero, è composta di lava nera, quasi rugosa e se stesso, peraltro con delle luci telecomandate. Questa è un po' la storia del piede d'elefante che ribadiamo, si trova ancora lì sotto il reattore scivolato e per certi versi qualcuno ha temuto, gli esperti temevano che andasse a inquinare anche le falde acquifere, cosa che in realtà non è non è accaduto. Dicevamo del sarcofago, beh insomma il sarcofago attuale è questo che trovate nella fotografia in alto, insomma un sarcofago che è stato pagato più di un miliardo e mezzo di euro, composto da metallo, cemento, chiedo scusa, cemento e acciaio, pagato un miliardo e mezzo di euro, forse anche qualcosa di più, ricopre interamente la centrale di Chernobyl, il reattore in particolar modo e dovrà contenerne le radiazioni per almeno 100 anni, quindi dovremo riparlarne nel 2116, 2118 insomma in qualche modo fa impressione parlare di una data così lontane. Le radiazioni sono ancora attive all'interno del sarcofago e perché è stato fatto un sarcofago d'acciaio e cemento, in realtà ce n'era già uno, che è quello che vedete nella parte più bassa, nella fotografia in basso, come vedete è cadente, sembra quasi che stia per crollare da un momento all'altro, fu creato nel giro di pochi mesi appena dopo l'incidente, ma fu creato in situazione di sicurezza quasi pari a zero perché le radiazioni erano ancora molto molto forti, per cui fu utilizzato metallo e cemento, ma un sarcofago per davvero pericolante, che poteva crollare da un momento all'altro anche con un semplice colpo di sisma. Questo è il motivo per cui ne fu realizzato uno nuovo, ne è stato realizzato uno peraltro pochi anni fa, perché insomma è stato completato nel 2016, perché il sarcofago precedente era assolutamente inadeguato per tenere le radiazioni. Lo fece, ma lo fece per poco tempo, perché quelle radiazioni erano talmente forti che quell'impalcatura non era in grado di tenerlo per un periodo di tempo accettabile. L'ultima storia che vi raccontiamo, che riguarda Chernobyl, non dico che strappa un sorriso, però ci fa capire come a volte sia sempre la natura a, non dico sistemare le cose, ma quasi, perché tempo fa, qualche mese fa, è stato diffuso e pubblicato nel mese di luglio questa notizia, una comunità di scienziati ha dichiarato che quello che sta crescendo all'interno dell'area di Chernobyl può essere la chiave per, pensate, vivere su Marte. Di cosa stiamo parlando? All'interno del reattore nucleare si è sviluppato un fungo che, a quanto pare, riesce a proteggere, potrebbe essere in grado di proteggere dalle radiazioni e quindi potrebbe consentire all'uomo di sopravvivere, è uno ovviamente degli obiettivi più a lungo termine che gli scienziati hanno fissato, sul pianeta rosso, inaccessibile al di là della lontananza proprio per l'alto livello di radioattività. È una scoperta che è stata fatta da un gruppo di scienziati dell'Università di Stanford, già testata, questa scoperta, sulla Stazione Spaziale Internazionale e pubblicata su New Scientist. Lo ha riportato per primo il Daily Mail, che è un quotidiano, un giornale inglese. Uno strato di questo fungo di circa 21 cm di spessore potrebbe infatti negare ampiamente l'equivalente di dose annuale dell'ambiente di radioazione sulla superficie di Marte, ha dichiarato uno degli scienziati. Ciò che rende fantastico il fungo è che ha solo bisogno di pochi grammi per iniziare e quello che rende ancora più fantastica questa cosa è che il fungo invece di soffrire e di morire a causa delle radiazioni usa queste radiazioni per nutrirsi. Si autoreplica, si autoguarisce, quindi insomma se un bagliore solare, perché poi sono le reazioni solari il problema di questa possibile missione spaziale, dovesse danneggiare in modo significativo lo schermo radioattivo, questo sarà in grado di ricrescere in pochi giorni, un po' come l'Araba Fenice se vogliamo trovare una somiglianza e una similitudine. Le prime tracce di questo fungo sono state scoperte peraltro molti anni fa, era il 1991, cinque anni dopo l'esplosione, dei funghi neri erano comparsi su alcune pareti del reattore abbandonato, inondato di raggi gamma. E allora gli scienziati hanno scoperto che allo stesso modo in cui le piante convertono all'idride carbonica e clorofile in ossigeno e glucosio attraverso la fotosintesi, insomma un argomento che abbiamo studiato tutti a scuola, i funghi assorbono i raggi mortali delle radiazioni di Chernobyl e che gli permettono a loro volta di creare energia, di produrre energia per sopravvivere e per alimentarsi, insomma. Questo ha catturato questo processo all'attenzione degli scienziati che adesso stanno studiando non solo per missioni su Marte, ma pensate anche ad esempio che potrebbe consentire ai malati di cancro, sottoposti a radioterapia, agli ingegneri delle centrali nucleari, ai piloti delle compagnie aeree di operare senza il timore di assorbire una dose mortale di radiazioni di raggi oggi. Questa è l'ultima storia che vi raccontiamo e che riguarda appunto il disastro di Chernobyl e in qualche modo che lo rende ancora così incredibilmente attuale.